se tu vedi tante trio tante coppie eccetera poi nella vita quando li vedono quasi non si frequentano ognuno ha un suo carattere anzi forse quello più divertente è la spalla e quello meno divertente il comico alle volte no invece noi siamo così quindi noi mettiamo tutto il nostro tre tipi di verce carlo che il ragioniere che quello che mette a posto la cosa che ogni tanto si permette anche di uscire dalle righe però è quello che fa l'ho detta sai un po così capito leonardo ormai ha rotto qualsiasi ormai lui ha rotto ormai è diventato penso peggio di ceccherini guarda che vuol dire tanto è peggio di ceccherini fa delle battute le volte che dico guarda ceccherini si vergognerebbe a fare queste battute capito ormai ha rotto le dighe eccetera e io che gioco un po di rimessa che sono così che ogni tanto vengo aggredito ogni volta qualche volta aggredito noi tre abbiamo oltre che l'amicizia avevamo la stima cioè ci stimiamo molto cioè io stimo carlo per quello che ha fatto